Bentornati al consueto appuntamento con TG Tech, scopriamo subito insieme quali sono le notizie più importanti di questa settimana. AMD, presente in Italia le piattaforme mobile Trinity e Brazos 2.0. Google Nexus 7, le possibili risposte di Apple e Amazon. Il Parlamento europeo boccia l'acta. Samsung svela ufficialmente X2F, ottica f1.4 e wifi. Sony acquisisce Gaikai per 380 milioni di dollari. Anche amico Gaikai ma a me non mi compra mai nessun. Non l'hai registrata, vero? In apertura la parola a Paolo che ha seguito il lancio in Italia delle nuove piattaforme AMD Mobile. Annuncio importante questa settimana per AMD e i partner produttori di notebook. L'azienda americana infatti ha introdotto ufficialmente nel mercato italiano due nuove piattaforme, da un lato quella Trinity e dall'altra quella Brazos 2.0. Per Brazos 2.0 parliamo di notebook di più piccole dimensioni, ad esempio questo modello VAIO di Sony. Si tratta di soluzioni che riprendono la piattaforma Brazos già presente sul mercato con alcuni incrementi da un punto di vista delle prestazioni, tanto del lato CPU come del lato GPU. La risultante è quella di avere a disposizione sistemi di ridotte dimensioni per l'appunto facilmente trasportabili e proposti sul mercato a costi particolarmente contenuti. Passiamo invece alle soluzioni Trinity. In questo caso abbiamo l'evoluzione della piattaforma Lano che è stata presentata da AMD lo scorso anno. Viene utilizzata in notebook di dimensioni più importanti ma sono presenti versioni anche a più basso consumo e quindi per sistemi cosiddetti ultra thin. Anche in questo caso troviamo l'integrazione di componente CPU fino a 4 core e di componente GPU con chip video AMD Radeon HD della famiglia 7000. Quali sono le caratteristiche tecniche principali? Buone prestazioni della componente CPU molto varie della componente GPU integrata. Tutti i partner sono pronti per la commercializzazione di nuove soluzioni in modo particolare basate su piattaforma Trinity a partire da queste settimane. In arrivo anche i primi modelli ultra thin con una soluzione di Samsung che è stata mostrata più la prima volta al pubblico italiano. Davide ci parla invece delle possibili risposte di Apple e Amazon al Google Nexus 7. Nel corso della settimana passata Google ha annunciato il proprio primo tablet Nexus 7, una soluzione indubbiamente interessante in quanto caratterizzata da una scheda tecnica importante e da un prezzo assolutamente concorrenziale. Si parla di 199 euro per la versione da 8 giga e 249 per quella da 16. Come prevedibile molti si sono chiesti se i concorrenti sarebbero stati a guardare? La risposta è ovviamente no, infatti nel corso di questa settimana sono state diffuse le prime voci riguardo delle possibili alternative proposte da Apple e Amazon. Il colosso di Cupertino potrebbe infatti rispondere a Google con un nuovo iPad mini caratterizzato da un display da 7 o 8 pollici e da un prezzo che si aggirerebbe intorno ai 299 dollari. Amazon sarebbe già invece al lavoro sul nuovo Kindle Fire 2S, il successore del vecchio Kindle posto sempre sul mercato a un prezzo di 199 dollari ma migliorato in alcune delle sue caratteristiche tecniche. Non ci resta che attendere e verificare quali dei molteplici rumors diventeranno realtà. Andrea invece ha seguito la vicenda della bocciatura dell'acta da parte del Parlamento europeo. Con 479 voti contrari e 39 voti a favore il Parlamento europeo nei giorni scorsi ha bocciato l'acta, l'accordo plurilaterale che ha lo scopo di definire un insieme di standard internazionali per la difesa dei diritti di proprietà intellettuale. L'acta, acronimo di Anti-Counterfeiting Trade Agreement, non è una proposta di legge ma un impianto di principi sui quali eventualmente basare una legge che mirano a contrastare la circolazione di beni e merci contraffatte e a rafforzare la protezione del diritto d'autore e dei diritti di proprietà intellettuale nella loro declinazione digitale. Principi che furono decisi e discussi senza coinvolgere i rappresentanti della società civile, scatenando comprensibili polemiche. L'accordo era al vaglio degli altri paesi firmatari, tra cui Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti. È possibile che la bocciatura del Parlamento europeo possa rappresentare un importante precedente in grado di orientare le decisioni degli altri paesi. Le sorti dell'acta saranno comunque strettamente dipendenti dalle decisioni degli Stati Uniti. L'amministrazione Obama, che in precedenza è sembrata favorevole ad accordi di questo tipo, deve però stare attenta a non scatenare le ire degli attivisti digitali, che potrebbero pesantemente condizionare la campagna elettorale per le elezioni presidenziali del prossimo novembre. Samsung alza la posta nel campo delle compatte premium, portando l'ottica della sua nuova Samsung AX2F al valore di f1.4. Samsung dà una ritoccata anche all'escursione dello zoom che raggiunge 3,3 per, con una focale equivalente pari a 24-80 mm, con apertura f2.7 alla focale massima. Il sensore retroilluminato si mostra a 12 megapixel in grado di spingersi fino a 12.800 ISO adotta al formato 1 su 1.7, abbastanza tipico per questa fascia di prodotti. La F finale del nome sta invece ad indicare l'integrazione della connettività Wi-Fi, che abilita il trasferimento wireless delle foto e il controllo remoto della fotocamera tramite smartphone. Rosario ci parla invece nell'angolo di videogiochi dell'ultima acquisizione da parte di Sony. In settimana si è parlato molto dell'acquisizione di Gaikai da parte di Sony Computer Entertainment. Quello di Sony è un annuncio che potenzialmente può sconvolgere l'intera industria dei videogiochi, segnando l'inserimento definitivo del cloud gaming nelle strategie dei produttori di console. Secondo gli annunci ufficiali, l'accordo è stato raggiunto sulla base di 380 milioni di dollari. La trattativa è stata conclusa il 30 giugno e ha fatto cadere gli accordi precedentemente raggiunti da Sony con il rivale di Gaikai, OnLive. Sony è adesso in grado di offrire videogiochi sulla maggior parte dei suoi dispositivi, televisori inclusi, senza che questi siano dotati di hardware dedicato. Grazie alle tecnologie di game streaming che consentono di elaborare la grafica da remoto si possono ottenere mondi di gioco dettagliati, senza ulteriori calcoli in locale. Sony sarà in grado inoltre di distribuire i propri giochi secondo strategie innovative legate ad esempio sul pagamento di canoni mensili. Potrà inoltre garantire la retrocompatibilità con i suoi vecchi titoli anche con hardware moderno. Ma quando sarà possibile iniziare a giocare in cloud sulle console? A questa domanda si può rispondere soltanto facendo un ragionamento sulla velocità delle connessioni a internet. La diffusione delle connessioni 4G nelle case dei consumatori in questa fase appare fondamentale per il consolidamento delle tecnologie basate sullo streaming via cloud. Anche per questa edizione di TG Tech è tutto. Vi rimandiamo al prossimo appuntamento con il telegiornale tecnologico del network di Hardware Upgrade.